È il tassello che mancava per completare il percorso museale di Santa Caterina. È la nuova Pinacoteca Civica che dopo otto mesi di lavori ed un percorso completamente rinnovato riapre al pubblico valorizzando lo straordinario patrimonio artistico di Treviso. Abbiamo delle opere straordinarie collocate in una parte del museo di Santa Caterina totalmente rinnovato che dà finalmente lustro a una collezione assolutamente straordinaria per la nostra città. Il progetto museologico si snoda in un percorso che parte in ideale accordo con i cicli pittorici delle storie di Sant'Orsola e degli affreschi del 3-400 custoditi nell'ex chiesa e si snoda attraverso i secoli. Dal 200, che fu per Treviso un'epoca di straordinaria importanza, con la fioritura dell'Urb Sipicta e conduce fino a tutto il 700, non mancano le chicche come opere mai esposte prima o restaurate e ricollocate in un contesto di grande suggestione. Una ce l'ho alle mie spalle, non so se riuscite a inquadrarla, sono le storie di Otinelle e sono uno dei tanti affreschi che Bailo ha salvato dalle case trevigiane e le ha portate in museo e ora finalmente le riusciamo a far vedere. E così, dalla cosiddetta manica lunga, il lungo corridoio centrale completamente rinnovato, si aprono le sale dedicate ai diversi periodi, con allestimenti coinvolgenti che svelano piccoli e grandi capolavori. Una sala nella quale finalmente i nostri esperti e i nostri architetti sono riusciti a collocare le pale d'altare che altrimenti non avremmo mai potuto esporre.